Vogliamo aiutarvi a realizzare voi stessi. Scuola del Cerchio Firenze, 77, attraverso Roberto Setti, 14 maggio 1970, a cura di VB, Dali. Le varie religioni o le varie filosofie cercano di spiegare che cosa sia la vita. E ognuna dà una risposta cercando di adattare quella che sembra essere la realtà in modo che l'uomo possa a questa appoggiarsi per trovare un sostegno a cui sorreggersi. Ma noi figli, parlandovi della vita, parlandovi della realtà, come appare man mano che la si osserva da nuovi punti di vista, non vogliamo darvi tante grucce alle quali appoggiarvi. Non vogliamo darvi qualcosa che possa allontanarvi da una realtà sgradevole, ma qualcosa che sia costruttivo. Noi, cercando di enunciare la realtà, vogliamo conciliare questa realtà con voi stessi. Vogliamo aiutarvi a realizzare voi stessi in questa realtà. Ecco, figli, che queste sembrano parole senza significato. Ecco che una tale affermazione è destinata a essere considerata complicata, astrusa, difficile a capirsi. Ma quando noi la pronunciamo vogliamo significare. «Destatevi! Guardate attorno a voi e in voi. Sappiate considerare la vostra realtà e la realtà che vi circonda, non in modo evasivo, ma in modo costruttivo. Non vi insegniamo quindi a sopportare le ragioni dei vostri dolori, dei vostri affanni, delle vostre amarezze, proponendovi un miraggio di evasione. Dicendovi che questi sono transitori che servono a conquistare una vita felice, futura e ipotetica. Ma vi diciamo, anche se ciò è vero, cercate di capire ora la ragione dei vostri dolori, delle vostre ansietà, qui, perché la vostra vita è fatta di realtà presenti, perché la vita, figli, non vi è data perché voi viviate in previsione del futuro che è già e che per altri forse è già trascorso, ma la vita è il presente. È il presente dell'eterno presente. Quindi niente evasioni, ma comprensione. Comprendere ciò che è attorno a voi, anche se questo comprendere, contrariamente a quanto possono promettere le filosofie e le religioni, non è di conforto, ma inizialmente di turbamento, di apparente confusione. La realtà per la realtà, la realtà per sé stessa. Ecco, la vita per la vita, per la creatività, non per l'evasione, non per chiudere gli occhi su ciò che è di fronte a noi, sperando che mirando nel futuro tutto sparisca e non sia visto. Quando un ostacolo si pone di fronte a voi, figli, non deve essere disconosciuto, non deve essere annullato nel non esaminarlo, ma esaminandolo, ponendosi nella condizione mentale di doverlo affrontare, in parte è già affrontato, anche se non nella sua totalità. Costa molto più il pensare alla difficoltà da superare o il non volerci pensare, piuttosto che affrontarla con semplicità. Molte volte, quando si affronta con questo stato d'animo, la difficoltà diminuisce, parisce. Questo per parlare dei lati amari che inevitabilmente si incontrano nella vita, perché la vita è fatta di tutte queste cose, delle cose liete e delle cose tristi, ma affrontando la vita e accettandola come è, così voi dovete fare, si deve accettare ciò che può essere piacevole e ciò che può essere spiacevole. Ma con la serena accettazione io vi garantisco che la serenità nasce nell'intimo di ognuno e ciò che può sembrare peso gravoso diviene sopportabile, non in funzione di una evasione che nulla risolve, ma in funzione di una comprensione che dona libertà. Siate sereni, fiduciosi, fidenti in ciò che è la premessa del Maestro Cristo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Non siate quindi in ansietà solleciti e la serenità e la forza non vi mancheranno.